Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri? Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.